ma bella ragazzi e benvenuti all'episodio 34 live 35 già partiamo male il live coppa con ciro immobile vince la scarpa d'oro con 17 go solo intercaliari che finale ragazzi era alvaro perere ma se non c'è capelli è alvaro perere ho detto tutti i dollari perfetto guiglietti è tornato quindi benziato io portavo crespino 4 a 0 ecco lui subito subito smonta la monta tutto tanto c'è gente che arriva e tocca gli iphone degli iphone cazzo tocchi l'iphone logo d'ost attacco naga tomo perere guarini snyder sulla fascia per caso abbiamo iniziato a tardi a questa lancia era molto era molto ottimo attenzione levandoschi che tenterà il cucchiaio dove vede una cosa subito dove vede una cosa subito che l'altra volta ne so accorto lui mentre c'è non è che le cose le vede prima i live lui che si sono le belle le cose belle della diretta come direbbe il più pippo baudo e si inizia tosto per lungo io sono rosso e si vede ma chi ti sei in culo inizia la finale di coppa italia tu sei il triangolo senza triangolo ah quindi sei il verde dovessi confonde col prato esattamente ranocchia sau la grande giocata il cross dentro non capito ma è destro di mancino fai cose strane è destro di sinistro attenzione colpo di testa di astori grande palena avanti per il magnifico l'incredibile se ne va la grande ma troia se primo y passa l'addio bono dai eh attenzione per la finale bisogna essere aggressivi il barbo 30 sul campo una palla strepitosa il cross dentro il colpo di testa che non arriva peccato ma ancora attenzione al contropiede qui dost a cercare slider ma 30 è fantastico poi cerca la giocata non trova lo spazio dentro per la stavo fatte vede fatte vede ma dalla un fallo bruttissimo ma questo stronzo la fa passiamo gli meno ooooh un spacco guarda mi fanno proprio così quando fanno queste cose vai vai tozzo uccidi togo fuori giuego tozzo conquista tozzo la smacca per l'amore che sei ulca e già un cazzo massimo cazzo è un ingolano l'incredibile si fa vedere in avanti l'incredibile odio alewandowski ma mortasci tu alewandowski mamma mia ad un passo dal gol il cagliari clamoroso cazzo del terzino vedi il terzino ciave i terzini il colpo di testa il controllo dell'albino che va a cercare l'incredibile saura salgole in avanti si fa vedere palla buona il tocco dentro strepitoso la polare manellina in gol lewandowski lewandowski lefampowski com'è? le 8f ci mettono clamoroso cambia di vantaggio lewandowski qui la nocchia che si vengono a testare si vengono a testare con hobby miracolo di la stoppa di petto perfetta per lewandowski un tiro imprendibile lewandowski veramente a picchiare il mondo tirato con una prepotenza impressionante farrain grande palla per asal gol che la stoppa la cristo di buddha attenzione che ne palla qui per lewandowski 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 dentro palla fantastica e poi si picchiano in due ma non c'è il mio ma raga cioè io facessi cosa da pirlo voi da te la camociare il pirlesque il pirlesque il pirlesque valla buona in avanti il barbo il barbo culo sotto culo sotto c'è il suo dentro si fa vedere lewandowski e che avkan il barbo a picchiare desider continuo la 30 attenzione qui farrain agli audio odio obiwan rasal gol e roberto persavo Ah, cazzo, sono rientrato prima, sono stronzo, so. Pecchiamole! Alla Rimbahadio. Alla Huakba. Poi esplode a qualcuno. Esplode a guarimio, tipo. Esplode a San Siro. Stavo olimpico, per Dio. Attenzione, qui, 9-golan, palla fantastica sulla corsa, non è vero, è un big. Troppo... Troppo. Pazza, Longo, 19 gol. Longo, orè? Longo, Longo. Longo, l'hanno visto. All'ombra, la San Pettacolo. Con le rose. All'Espagnolo. Ecco, un nuovo coro, ritifosi del Milan. Attenzione, qui, Barbo, 30 sul campo, c'è Astori davanti a lui. Non è vero, Ariadio. Ariadio strepitoso, però, se alcun si può vedere, sa, fa la larga per Lewandowski, va, Roberto il Magnifico. Attenzione, no, peccato, peccato. Non si è fermato. Attenzione. Dost è ucciso. Rosso, mi ha recuperato un altro di pallone 30. Proprio un grande. Rega, guarda, mi sono fermato sulla galleglia. Perché l'hai tolto? Perché? Perché non ci dobbiamo dire. Giovanni Gesù, in avanti, colpo di testa. Ibarbo! Dai, cross. Questo non è fallo, però, no? Gioco di merda. Ibarbo. 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 La fa passare Lewandowski il Magnifico. Vai, Roberto, per la Salgulla. La giocata. Ranocchia. Strepitoso. Ma chi te sei in culo. Ma passala a Lorenzo. Tensione. Ariadio. Tretta sul campo. Lewandowski. ilsbero. Se ne faccio una pianta qui. Attenzione. Aurora. Mandala, todos dire no, il mill��ale. STIPO DO a membro, su, re, s Michael, la su Марcastica, la su. La wide. Coppe. Pereira, perere, appena il valo para. Piggiato. Per fortuna, c'è. lecce se non lo so io ho la parola mamma mia bollard bambamia ragazzi di riusciti io ho la dento all'indietro bubba tappia o come se non vuoi che mi fai se non sono veramente erano a chi cazzo ma l'ho anche io ho l'attenzione stop di giovanni gesù ho ancora messo malissimo il caglio che potrebbe approfittare l'Inter negatopo negatopo per Cotillo lancio per Longo Varane l'errore clamoroso mamma mia, professor ta butta la cazzo insuoni il barbo la serie di finte c'è Giovanni Gesù che è veloce la palla è buona però attenzione c'è Obi dentro Lex Obi, Obi, no il buono l'hai detto ma l'ha parata il poltello guardami, guardami, guardami Astori no Astori se vuoi la ripete dopo il gol del nazionale che è tutto solo diamanti non c'entra niente guardate la madonna dai vi sto la madonna la madonna era quello da Arbino Leff l'immagine attenzione c'è Saul davanti lo vedono attenzione alle sue velocità incredibili vabbè cazzo bianchetti di merda ma blaccato ma blaccato che blaccaggio attenzione fermatelo long go Nagatopo fermato peccato far rain far rain non so c'è ancora Nagatopo che si fa vedere fa una zanzara passione avanti proprio per lui fa rain fa valere tutto il suo fisico Rasalghul ancora grande palla indietro Saul fa partire Lewandowski fa Roberto il Magnifico no no ha ripassato e finisce il primo tempo il culo poche occasioni ma buone per il Cagliari l'Inter che ha avuto due occasioni fantastiche dentro l'area di rigore ma è ancora tutto da decidere che c'è dentro il Gargano quello che attira di rigore è bello ultimo di noi no? si aspetta se non ha i rigori speriamo che lo tira lui si speriamo che sia presi pure Bonucci beh Saul che giocata il tacco meraviglioso Saul ancora Saul dentro Lewandowski maledetto Giovanni Gesù madonna si è mangiato proprio attenzione a Dost grandissimo qui picchio con ariaudio eh speriamo non mi sono nato un po' barino portato fuori dal mondo attenzione si fa vedere leva Roberto il Magnifico Roberto 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 gol meraviglioso da lì la doppietta del Magnifico da lì puoi scrivere già il gol mette il tabellone lo puoi già accendere poi quando la diri agile agile guarda guarda quando la diri verso l'angolino la tira a una mezza altezza stranissima ascende è troppo forte è impressionante comunque interzero Cagliari 2 finale di Coppa Italia strepitosa Cagliari Dost azione ranocchia niente che cosa Cagliari Dost un Dost invece di Dost un Dost vabbè era era perintenditore dopo questa battuta per pochi cioè per pochi i genitori Dost Guarin viene ucciso quasi attenzione c'è un pressing è quasi spettacolare sulla tre quarti poi qui Guarin esagera una cosa un po' esagerata pari partire Varane per Varin Varane Farin davvero mi sceglie lingua cosa se non si può vedere Rassal Gull attimo mi sbaglio com'era belga indonesiano oddio oddio come ricordo avevi detto Marta come che MIG t'ho tirato Varane era Varane Varane l'unione t'ho tirato un MIG si infatti diciamo spezzano a caviglia stop spezzacaviglia 55.6 minuto inter 0 Cagliari 2 spettacolo puro all'Olimpico Hobbie dell'Olimpics Stadium l'indonesiano fa una gran cosa ho premuto le porte il passaggio guarda la cha cha oddio Hobbie o se Hobbie fai finte quelle imbruttite nel vero smettito ti tira in porta sui contrasti però devo fare il powercross di ieri spettacolare se c'è Gabby te sei più bravo a farlo sono andato a culo a scoperto a culo ti obbio mamma mia ma dai di naso al culo ora sto gioco del merda con il nome fa selezionare i giocatori lo spaccherei mi sono una Smiler Wesley mamma mia che pressing fenomenale torna a gala da fare a 30 gira gira mamma mia ragazzi Varane che cerca di bruciare l'azione in avanti di sau si fa vedere roberto che cazzo ma perché ti fa quel tocco in più hobby meraviglioso cade a terra e perché sono così stronzo perché perché oddio sau oddio sau siete solo voi no oddio e vaffanculo chi era bianchetti si bianchetti ok bianchetti vabbè sa voi tipo il figlio bianchetti c'è c'è Obi-Wan che si fa vedere va Obi-Wan con la eh vabbè è Obi-Wan ma se ti vede di fare il gioco di suola fa il gioco di suola Dost contro Astori Astori lo picchia lo costringe ad allargarsi lo accompagna quasi fuori poi Dost con una giocata strepitosa fa una cazzata pazzesca ed è fuori allora prova su quello di là su quello di là il barbo che giocata il barbo il barbo vabbè noi si capivo così ma poi col tuo padre stava indietro di me snyder e chi sei e poi varan fa han se vuoi vedere il barbo lui preferisce girare dall'altra parte farai zau giriamo di qui attenzione c'è zau contro bianchetti ma che cazzo ha fatto zau si è fermato da solo bianchetti ma povero bianchetti è troppo veloce si è infatti vuole sfruttare Savo contro bianchetti vabbè i nostri perdono tempo ragazzi ma che cazzo fa vabbè giocano da soli attenzione 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 andaro lì Samir Samir ho il saluto di questa saluto akbar attenzione colpo di testa il controllo di 30 che cerca la giocata ancora mezza due è fermato purtroppo c'è ne abbiamo ancora l'azione estremigliosa era Salgul si fa vedere 30 la Salgul che cazzo hai fatto era un lancio per picchio si è perso il pallone si è era in porta arriva si non mi aveva il pallone sui piedi ma tanto la faceva Spike se c'è il gioco darete mezza una stoppata col 30 oddio non è saltato Varane attenzione a Gargano Gargano Varane su Cassano 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 grande 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 e qui che hanno giocato ancora tutti quanti strepitosi che cazzo lancialo cazzo Veronica senza senso perché il mio corre così cazzo che cazzo fa Coutinho Varane lo spacco raga ma che cazzo ci ha avuto paura si è spaventato mammi cazzo Hobbie guarda Hobbie oddio ora li lancerò in Angolan oddio il pallonetto no il pallonetto fuori gioco ma che cazzo ha avuto fuori gioco beh 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 in serie questo era una maia striscia netto netto proprio vabbè oddio il trenza che ansa vabbè era fuori gioco però ha visto una cosa veramente proprio il trenza è entrata non il trenza ci segna ci segna sempre che cazzo fa il burkic c'è Roma perde tempo ti credo fa uscire uscire si deve stancare vedi te l'ho detto porta a casa San Cristino no ci ha guidato conti ma dorsano go ma gli fa marsare la Champions ah beh sai il re butta giù butta giù zio butta giù tu vuoi ho presa ho presa lanciami cazzo ecco ma se ne rotte se ne rotte i palli no no maledetto gioco di merda farai 30 no oddio no che si è fatto sono un po' stanchi forse no no stiramento al polpaccio metti ci sei dai metti ci sei ma che cazzo che segna ci sembriamo la finale vabbè giocherà ci sei dai pesante pegola 5 minuti la partita è praticamente chiusa e per poco a story non metteva una pedra tombale come direbbe Undertaker una tombstone story ma che cazzo tu hai story tu hai story attenzione il colpo di testa il controllo la perde clamorosamente con un fallo di mano da parte di Pereira gioca a palla a volo gliela passa a plasio plasio a plasio farai nell'accelerazione su bianchetti che salta guarda story guarda story palla buona per Varane calciavano me l'ha levato per poi ridarmelo il gioco è giusto la palla dentro buona il colpo di testa di Astor salva l'Inter poi gli strida nell'orecchio andano attenzione si portano che a tutti la palla rimane lì Varane mano è rigore netta Varane l'esperienza del Real Madrid va a fare le rovesciate chi ti ra il rigore raga astra è importante questo quindi Astori Astori il capitano il capitano Astori come Polucci ma l'avete dentro Astori mi fa guardare il pubblico avuto i trick si passa sopra campioni d'italia di nuovo vincolo la seconda coppa italia di fila se vinceremo i Champions League c'è il mondiale per club magari ma ti pare che mettono il mondiale per club a FIFA eh scusa eh è FIFA mondial club ti pare che FIFA mondial casa al prossimo questo mondial casa ti aspetta Mastrotta ancora è vivo raga Mastrotta Mastrotta ma stoppala la Petro ha dato 9 minuti di recupera nel frattempo stavamo 3 a 0 faccelo faccelo niente niente non ci fa finire ragazzi se volete passare a casa mia vi offro una fetta di cucumero che a maionese che schifo è finita vincolo di nuovo state per 5 raga boh 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 5 ai fan boh virtuale boh coriandoli Cassano a terra mia scoppia del cuore se devo far chiudere il canale in qualsiasi modo sì in nome di Dio e della Madonna abbiamo vinto questa Coppa Italia non ci sono arrivate querele da vari giocatori presi per il culo tipo chi era? Divano Divano Crusca Crusca non l'abbiamo presi per il culo vabbè no Mignoli Gambioni che possono risultare anche simpatici oh che goliardia e intanto con questa schermata fantastica l'Inter ha fatto 4 gol a tutti nella sua scesa della Coppa Italia 4 a 1 siamo sudata con tutti non ne ricordiamo Catania Brescia e Fiorentina che grande Coppa Italia noi solo Juve Chievo e Milan con questa schermata che mi fa capire un po' quanto ci siamo impegnati per arrivare a questo agoniato risultato fantastico seconda Coppa Italia di fila no Coppa Italiana no scusa che è successo vabbè vabbè sti cazzi ah non si è fatto niente no era un infortunio di stanchezza un po' di graffi basta con tutte che cosa vuoi tu magari era un infortunio di avere sul 30 vediamo a posto tutto a posto ragazzi il 30 ci sarà il 30 ci sarà questa forse è la una delle notizie più importanti che emergono in questa pre-champions league c'ha 46 equilibrio ma non è vero per niente in casca mai quindi vi salutiamo perché anche questo video è giunto al termine vogliamo tanti like per questa Coppa Italia italiana alzata al cielo che è che sta a dire commentate una cifra purtroppo una cifra ma proprio che riuscivo a leggere una coppia ma proprio pochina cifra per rispondere ci sono un saluto a tutti bella